Cominciano i play-off da affrontare con entusiasmo e realismo, inutile guardare troppo avanti, bisogna prudenzialmente vivere alla giornata, subito l'ostacolo Pontanera da superare. In questo momento quello che mi interessa, come ho fatto le altre partite, è vincere la prossima, fare bene la prossima, fare bene con la squadra perché ne gioviamo tutti. Ci vuole anche l'entusiasmo, la voglia di sorprendere perché tanto sappiamo tutti che non sarà facile arrivare fino in fondo, ma non è impossibile. In virtù del miglior appiazzamento al termine della stagione regolare, il Pescara avrà due risultati su tre a disposizione, vittoria o pareggio al novantesimo. Di contro i toscani devono vincere, niente supplementari. Cascione dovrà rinunciare al contributo di Matteo D'Agasso, stiramento del flessore della coscia. 10-15 giorni di stop, assenza pesante. D'Agasso è il miglior calciatore anche per la sua estrema duttilità del reparto nevralgico. In compenso torna a disposizione Loi, che però si è appena ristabilito da un fastidioso infortunio al ginocchio. Per questo potrebbe essere confermato Franchini, che affermo ha giocato una buonissima gara. Dubbio anche in attacco. Cuppone non è al 100%, lieve risentimento al flessore. Scalpita Vergani, probabile 11, plizzari tre pali. In difesa Floriani, Brosco, Messic e Lex Milani. A centrocampo Franchini o Aloy, il rientrante squizzato e Tuniov. Davanti Merola, Vergani favorito su Cuppone e a Cornero. Io penso che in questo momento dobbiamo cercare di snaturarci il meno possibile, perché dopo può succedere, può diventare un po' la stessa gara in casa con l'Ancona, dove abbiamo provato ad essere un po' più aggressivi, più propositivi, abbiamo perso un pochino le distanze e magari il lavoro che abbiamo fatto le settimane precedenti. Quindi per prima cosa dobbiamo essere bravi e avere pazienza e non forzare né le uscite, tanto meno comunque anche le giocate, per cercare di chiudere la partita. Dobbiamo stare soprattutto concentrati in fase difensiva. Nell'ultimo segmento di campionato, Pontedera in flessione. Un solo successo con l'Ancona in casa lo scorso 7 aprile e 3 K.O. in trasferta. Ma attenzione, l'ultima partita sul campo della Carrarese ha detto che i toscani sono in ripresa. K.O. sostanzialmente immeritato. In generale, lontano dal pubblico amico, i Granata hanno conquistato 7 successi, totalizzando gli stessi punti del Pescara. 26 per rendimento esterno sono state le migliori squadre dopo Cesena e Torres. Organico molto giovane, con tanti under, soprattutto un'evidente organizzazione di gioco. L'impronta data dal tecnico Max Canzi, in carica da due stagioni, è riconoscibile. Fuori peli, rottura del crociato, il terzino Angori, Marrone e Lex Ciacci. Sistema di gioco 3-4-2-1. Tre pali vivoli, in difesa Calvani e Specie e Guidi. Sulle fasce Cerretti e Perretta. A metà campo il tandem Ignacchiti-Benedetti tra le linee del Pupo e Ienesi. Alle spalle dell'ex Andrea Gantz, favorito su Selleri. Molto attenti perché affrontiamo una squadra che sa giocare molto bene, si muove bene, ha ottime individualità, anche in mezzo al campo e davanti. Dovremmo affrontarla con grande umiltà, non pensando comunque al fattore dei due risultati utili. Faremo un grandissimo sbaglio se succedesse questo perché rischiamo poi dopo in qualche modo indirettamente di rilassarci troppo. Curiosità, il tecnico Max Canzi sfida il suo tabù. Contro il Pescara cinque partite altrettanti sconfitte. Tre alla guida dell'Olbia due anni fa, due con il Pontedera. 0-5 all'andata, 1-0 nel match di ritorno. Appena un gol all'attivo realizzato dalla Rosa due anni fa, Olbia Pescara terminata in rimonta 2-1 per i Biancazzurri di Gaetano Auteri. Sono due i precedenti all'Adriatico. Nelle immagini, 27 marzo 2022, Pescara avanti con questa prudezza di Luca Clemenza. A due dal termine il pari di Mutton Toscani allenati da Ivan Maraia. E poi storia recentissima, lo scorso 23 marzo i Biancazzurri prevalgono di misura 1-0. Match winner il solito Davide Merola è stata soprattutto la prima panchina di Emmanuel Cascione.